E quello che vi sto per presentare scaturisce da un'esperienza sul campo che è durata circa sette anni, da cui risulta evidente come la informazione, la formazione continua e soprattutto nel saper coinvolgere i lavoratori, sta alla base di qualsiasi programma di salute e sicurezza in ambiente lavorativo. Quindi adesso vi spiego perlomeno come nasce il concetto di TPM, Total Productive Maintenance. Il concetto nasce dal fatto che tecnologicamente si è sempre pensato ad una manutenzione che interveniva sulle rotture, poi si è pensato in ambito produttivo, e poi si è pensato ad una manutenzione che invece era divenuta manutenzione preventiva e poi praticamente l'elaborazione, questo è un po' il Toyota Production System, si è passati a una ulteriore evoluzione che è quella della manutenzione produttiva. Quindi è un concetto basato su un programma di manutenzione che è diffuso su tutta la compagnia, su tutte le aziende, quindi parlo soprattutto di realtà produttive molto evolute, di tipo quasi multi local o perlomeno globali, per creare qualità nei macchinari e migliorare la produttività di tutte le macchine. Qua spiega un po' perché, perché è totale, perché sono coinvolti tutti i dipendenti, allo scopo di eliminare tutti gli incidenti, i difetti e le rotture, è Productive perché le azioni vengono sempre svolte mentre la produzione prosegue e i problemi di produzione sono minimizzati, e Maintenance perché bisogna mantenere tutto in buona condizione e diciamo che gli step, i vari gradini di attuazione sono nell'ambito della tecnologia produttiva, delle linee di produzione, della produzione snella, quello che viene chiamato in gergo Lean Production e Pulisci, Lubrifica, Ripara. Diciamo che tutto parte da quello che è una filosofia di vita, si dice in effetti che forse oggigiorno il Toyota Production System, in qualche modo da qui decade quel concetto di Kaizen, è più che altro un modo di concepire la vita. Il Kaizen Philosophy è uno stile di vita che presume che ogni aspetto della vita meriti di essere costantemente migliorato, il fondatore della Sony diceva che lui ogni notte andava a letto pensando di poter fare meglio domani quello che già era convinto di aver fatto molto bene oggi. Il Kaizen Method quindi riposa su una base di vita reale applicata alla tecnologia produttiva. Il Total Quality Management o il Just in Time o il Total Productive Maintenance sono le basi che ti possono portare, sono gli elementi propulsivi che portano all'eccellenza. Quindi stiamo parlando di competitività globale. In un modo quasi orientale di concepire questi concetti potremmo dire che il Total Quality Management, quindi il controllo totale della qualità, è un po' il cervello dell'organizzazione. Il Just in Time sono i nervi, la conduzione nervosa del sistema, e il Total Productive Maintenance sono i muscoli. La fase di Total Productive Maintenance a cui io come medico o medico del lavoro ho partecipato, quindi è iniziata nell'anno 2000. Una prima fase che ha coinvolto due anni di esperienze, che è basata soprattutto sull'applicazione del TPM e congiuntamente a concetti di sicurezza antinfortunistica. È una seconda fase, durata dal 2003 fino al 2006-2007, in cui assieme al Total Productive Maintenance e la sicurezza antinfortunistica, si è introdotto un nuovo pilastro, una nuova base costruttiva che è stata chiamata Work Quality. Quindi un qualche cosa che concepiva la salute e il benessere nelle attività lavorative, quindi il miglioramento dell'ambiente di lavoro. Lo scenario è stato rappresentato soprattutto come fattori interni e fattori esterni, quindi aggiornamento legislativo, competizione europea, audit, quindi controlli interni, la valutazione dell'opinione pubblica, fattori esterni, cambiamento del livello culturale, evoluzione tecnologica delle linee di produzione. Il tutto per che cosa? Per poter ridurre il Lost Time Accident Frequency Rate, cioè qua ho lasciato le abbreviazioni anglosassoni, quindi la quantità di assenza dovuta a infortuni sul lavoro, ai semplici incidenti in cui dovremmo in qualche modo classificare quelli che vengono considerati i quasi infortuni, laddove culturalmente bisogna maggiormente incidere, e poi appunto gli infortuni. Quindi lo stato ideale della fabbrica è stato concepito come zero infortuni, zero incidenti, allo scopo di creare e ottenere un più sicuro e confortevole ambiente di lavoro. Cosa ci si attendeva quindi? Una riduzione, sì, della frequenza degli infortuni e degli incidenti, riduzione delle ore perdute, riduzione del numero degli incidenti, maggiore coinvolgimento dei lavoratori, come? Facendoli partecipare in modo diretto all'analisi del rischio. E vi mostrerò come. Alla base di qualsiasi processo, io come medico del lavoro so benissimo che la prevenzione primaria è soprattutto educazione, quindi sicuramente è sforzo economico e organizzativo, ma l'educazione, quindi l'informazione, la formazione sta alla base di qualsiasi processo di prevenzione primaria. Però devo anche saper valutare come questa formazione, questa informazione viene recepita. E quindi devo misurare l'addestramento, quindi quello che viene chiamato training, l'ispezione, i sopralluoghi, gli audit e il cartellinaggio. Quindi l'operazione che vi mostrerò adesso che è stata fatta con dei cartellini rossi in ogni punto in cui i lavoratori definivano che ci fossero dei rischi corregibili o migliorabili. E poi facendo sull'oro indicazione diretta, che cosa? One point lesson, quindi delle lezioni mirate sui quei rischi e su come quei rischi potevano essere superati. Questo è un esempio di cartellinaggio rosso in cui venivano appunto identificati che cosa? Le tipologie del rischio rilevato, quindi l'urto, lo scivolamento, il taglio, la descrizione, la soluzione suggerita dai lavoratori, sto parlando sempre di attività dei lavoratori, la priorità dell'eliminazione che poteva essere immediata o nelle situazioni di fermo macchina della fine settimana e se fosse necessario fare una lezione mirata su quel tipo di rischio. Quindi anche praticamente un coinvolgimento a livello di suggerimenti, di azioni correttive, laddove evidentemente ogni lavoratore si sentiva protagonista dell'attività lavorativa che svolgeva. E questi sono degli esempi diretti in cui logicamente non si faceva soltanto il cartellinaggio rosso, non si è fatto solo quello, ma si faceva praticamente che cosa? Un training in aula, si accompagnava questo all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, si facevano le one point lesson sulle azioni sbagliate e si faceva anche educazione sanitaria come ad esempio la guida al BLS per le squadre di emergenza o la guida per i visitatori come sicurezza. I cartellini rossi quindi sono praticamente andati quasi in una progressione esponenziale dall'aprile 2000, anno in cui si è iniziato, fino a 1496 suggerimenti per punti critici da migliorare del settembre 2004. Le lezioni mirate sui rischi specifici sono passate da 2 a 501. La struttura del servizio di prevenzione e protezione è stata così concepita, responsabile del servizio di prevenzione e protezione allo stesso livello in senso orizzontale col medico competente e poi sempre allineati l'assistente al TPM che cura direttamente tutti gli aspetti del Total Operative Maintenance, il servizio tecnico di sicurezza, il responsabile della squadra di emergenza e l'ufficiale certificatore della sicurezza, sempre sulla base della contiguità con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Quindi non solo qualità della produzione, ma qualità della vita lavorativa dei lavoratori. Non solo quindi qualità dei prodotti. Gli attori devono essere sempre gruppi omogeni tra dipendenti e dirigenti per migliorare la performance aziendale e la qualità della vita dei dipendenti. E il concetto è sempre lo stesso. Una migliore salute produce sicuramente alti livelli di produttività. Quindi la sicurezza, la salute, ma soprattutto produttività, che poi è il conto economico che al datore di lavoro interessa di più. È inutile nascondersi da questo punto di vista. Ma il coinvolgimento nasce soprattutto dalla sicurezza antinfortunistica e dal miglioramento dei livelli di salute. Come anche con una sorta di azione progressiva di automazione, progressive low cost automation, e quindi il pilastro di work quality. Per ottenere la soddisfazione del dipendente. Come sale la motivazione, sale la soddisfazione. Per avere una migliore organizzazione, una migliore efficienza operativa, ma soprattutto ridurre il disagio, la fatica, gli scarti, i difetti di produzione. Allora il TPM dice che bisogna agire sempre a sconsette gradini di intervento. Il modo più corretto di poter intervenire è questo. Codificato, è un'attività codificata. Il primo consiste nella definizione dei livelli di fatica dei lavoratori. In questo caso il work quality nasceva dal fatto che i lavoratori avevano identificato dei punti in cui il lavoro fosse molto faticoso e forse noi ritenevamo che essendo così faticoso aprisse la porta ad un'infortunistica e anche a un aumento degli scarti e quindi delle alterazioni di produzione. Quindi definizione di livello di fatica percepito, soggettivo. Una misura del carico di lavoro che veniva identificato in funzione delle varie attività di produzione sulle varie linee di produzione l'identificazione dello scopo che era in effetti il passaggio da zone molto faticose definite molto faticose a zone meno rischiose e faticose fino a un lavoro che poteva essere diciamo caratterizzato da un alto livello di creatività dell'operaio. E quindi uno sviluppo delle contromisure quindi com'è che grazie anche al suggerimento di chi aveva le mani su quella postazione di lavoro tutti i giorni si riusciva a definire logicamente poi con l'aiuto tecnico e anche ergonomico mio dal punto di vista del medico del lavoro l'applicazione delle contromisure capaci di misurare gli interventi migliorativi come efficienza, produttività e costo energetico delle attività lavorative prima e dopo gli interventi ridefinizione del carico di lavoro e poi definizione dei risultati come sicurezza e produttività e vi mostrerò i risultati. Quindi avevo due possibilità perché avevamo un mister Caneda che era un consulente giapponese che veniva direttamente dal Giappone a verificare l'attività che veniva svolta nella formazione diretta. quindi la valutazione dei fattori di stress diversi fattori di stress che io avevo valutato era il carico di lavoro muscolare dinamico le cattive posture di lavoro soprattutto quelle statiche e i fattori ambientali intesi come rumore, freddo, caldo e illuminazione. La misurazione e la spesa energetica la potevo fare con il VO2 massimo o se no con la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa o la temperatura corporea. Ho scelto di fare la frequenza cardiaca ricordandomi dalle basi dei concetti di fisiologia del lavoro che il polso di ossigeno diciamo è caratterizzato dal fatto che io consumo sempre 4 ml di ossigeno per ogni battito cardiaco che aumenta oltre il livello mio base standard e un litro di ossigeno consumato equivale ad un consumo di calorie di 20 kJ. Quindi tenendo conto della regressione lineare che esiste tra frequenza cardiaca e VO2 massimo ho calcolato che cosa? La pressione arteriosa sistolica e diastolica la frequenza cardiaca e nelle varie attività lavorative come ad esempio molto faticosa la palletizzazione a mano il rifornimento della macchina all'inizio della linea di produzione o l'inscatolamento che veniva svolto nella posizione in piedi. Comparato sempre con che cosa? Con la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa che c'era nei momenti di pausa di lavoro. Per che cosa quindi? Per poter dimostrare che gli interventi migliorativi erano capaci di ridurre quelli che in termini giapponesi vengono chiamati la sindrome delle tre MU muda, mura, muri che è praticamente muda e perdita di energia umana e dei prodotti mura è l'irregolarità nessuna sequenza logica nelle procedure di lavoro quindi che nel genba che sarebbe la sala produzione era uguale a creazione di perdite e di fatica e muri che sarebbe appunto la fatica dell'uomo e la fatica delle macchine con generazione di perdite. L'analisi diretta quindi nelle varie definizioni era stata quella come percepita con matrici di lavoro molto costoso come spesa energetica come indici di fatica medio o basso in tutte le posizioni di lavoro nell'interfaccia uomo-macchina è stato calcolato poi la misurazione anche per attività composte sempre su tutta la linea di lavoro e con la definizione delle varie attività come ripetitiva faticosa ripristino e funzionamento movimentazione di carichi manuali eccetera ma anche l'identificazione degli scopi che ad esempio erano quelli dal punto di vista ergonomico di ridurre quelle che erano ad esempio il sollevamento al di sopra dell'asse delle spalle o del capo dei poesi o se no la torsione del tronco o il bending praticamente il piegamento del tronco nella posizionare il prodotto finito sul nastro trasportatore lo scopo di tutti questi studi era appunto quello di riduzione e eliminazione della movimentazione manuale come quindi con lo sviluppo di contromisure e le stime dei livelli di fatica nelle varie opposizioni e ad esempio nella riduzione di sollevamento e abbassamento l'implementazione delle contromisure e soprattutto era legato quindi anche all'applicazione dei suggerimenti dei lavoratori e della tecnologia che l'azienda era disposta ad applicare a questi sistemi di miglioramento per rendere meno faticoso l'attività lavorativa che rendeva quindi anche il lavoratore sicuramente più come dire più coinvolto più sicuro dal punto di vista infortunistico più idoneo allo svolgimento delle mansioni e anche più creativo un uomo meno stanco un cervello meno stanco davanti ad una macchina è sicuramente molto più efficiente produttivo e capace di seguire tutti gli elementi della produzione quindi la ridefinizione e la valutazione dei carichi di lavoro soprattutto nella definizione di fatiche e tempi di operazione e tempi di trasferimento quindi è stato fatto tutto un lavoro legato ad esempio alla ridefinizione ergonomica delle altezze dei nastri trasportatori delle distanze di trasferimento delle posizioni sedute invece che in piedi e delle automazioni che permettevano appunto di ridurre il costo energetico il passaggio nella misurazione degli effetti è stato che se nel 2003 esistevano 24 posizioni considerate molto pesanti ed effettivamente lo erano nella costo come costo energetico delle attività lavorative si è passato nel 2004 a solo sette posizioni molto gravose e mentre mancavano totalmente posizioni considerate eccellenti si è passato a 12 e poi a 13 nel 2004 al termine di questa prima attività con l'aiuto del collega col professor Cocco abbiamo quindi cercato di trovare una risposta che riuscisse in qualche modo a coniugare la produttività e l'elemento fisiologico frequenza cardiaca che testimoniasse la riduzione del costo energetico dell'attività lavorativa perché bisognava dimostrare il risultato di questi interventi allora abbiamo chiamato questo valutazione di produttività epsilon in cui diciamo valutiamo come direttamente proporzionale a questo fattore la produttività e inversamente proporzionale a questo fattore il costo energetico dell'attività lavorativa come numero di prodotti finali numero di prodotti scartati con difetti numero di lavoratori è inversamente proporzionale appunto al costo energetico di quell'attività identificato come come evidentemente in questo caso chiedo scusa eccolo compare ora frequenza cardiaca vediamo che prima degli interventi migliorativi del Kaizen avevamo una frequenza cardiaca di 100 circa 135 che poi calata a praticamente 80 cioè 90 94 poi una pressione sistolica che passava nell'attività prima del Kaizen prima del miglioramento da 140 a 134 e una diastolica che passava dal questo è nel riposo logicamente 78 88 e poi praticamente 80 quindi la produttività intesa come delta migliorativo e come costo energetico dell'attività lavorativa passava da 25 a 30 con un miglioramento del 14% sia come produttività che come indice di fatica il concetto fondamentale comunque è che tutte le volte che io attuo una sorta di total productive maintenance lo devo concepire evidentemente non soltanto sui prodotti ma anche sui lavoratori e questo è stato il risultato positivo di questa esperienza perché sicuramente salute sicurezza benessere e capacità operative risiedono diciamo come base del mantenimento di una competitività che oggigiorno non è più semplicemente regionale nazionale o europea è decisamente globale e questo è legato al fatto che concettualmente un lavoro meno faticoso crea lavoratori più flessibili un'autonomia sul lavoro crea sicuramente coinvolgimento motivazione e creatività e la qualità della vita dei lavoratori in un mondo turbolento in cui le produzioni globali sono sicuramente uno degli elementi più caratterizzanti oggigiorno del mondo del lavoro deve essere tenuto in considerazione secondo me in modo precipuo così come la ricerca di un diffuso benessere con il rafforzamento della capacità organizzativa dei lavoratori con il metodo TPM con questa ricerca ha dimostrato un'ottima validità come sicuramente sempre con un metodo che dovremmo definire amichevole o familiare questi sono ulteriori ad esempio miglioramenti che si sono avuti nel campo produttivo come produttività e riduzione del costo energetico dell'attività lavorativa che migliorava del 23% e questo è l'elemento fondamentale voi pensate che da 20 infortuni ad esempio nel 2002 si è passati al fine del programma a soli due infortuni nel terzo quadrimestre del 2004 e questo livello ha raggiunto anche livelli ulteriori di miglioramento fino a zero infortuni ad esempio nel 2006 e questa è la dimostrazione che in effetti tutte le volte che si introduce fenomeni si introducono processi organizzativi di informazione formazione coinvolgimento dei lavoratori l'indice infortunistico sicuramente si riduce e questa è la riduzione ad esempio delle attività manuali che erano fatte e questo è il miglioramento con una piccola automazione delle attività ma non meno importante è anche il trend dell'assentismo che abbiamo visto ridursi drasticamente di percentuali che per quanto si partisse già da livelli bassi si sono ridotti ulteriormente raggiungendo valori di eccellenza sicuramente sia a livello nazionale che a livello internazionale in effetti tutti questi risultati sono stati poi come avrete notato anche dalle diapositive che erano parzialmente in inglese portate a livello di attenzione di organismi internazionali hanno in effetti riscosso il plauso di moltissimi colleghi io vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 grazie